Eh, oh boss, ti apposti? E chi è questa cosa? Quanto potrei? Vuole che non hai pagato la luce? Ma no, non è possibile! Ma perché? Proprio a te di prendere questa... Annaggia, ma ma lei che è? Mi chiamo qualcuno, Assessore, ti faccio sempre, se ho vinto con il nasciacino. Andiamo, prendo il telefono, ciao! Pronto? Sì, Assessore, all'Urbanese, ma scusate, sì che sì, ma io pensavo che non avevo pagato la luce, poi ho detto buono, un po' da corrente del comune qua. Eh, ma scusate, ma di che sì che avete vienuto tutta la potenza, questi strisci blu, però ho pure pigliato il vostro posto pagato a Sandro. Scusate, voglio vedere se venite voi qua per una masata, e vi mettete qua enti se lo vanno a pagare, o siete agevolati voi, tutto quello che è comunque. Eh, voglio vedere come un biglietto di questi soldi. Sì, a Oscar, a Cagliato e Tostra, a Greta, a Pongarbo, eh. Eh, abitatevi io. Sì, sì, da mio padre. Avete a prendere la roba la città di lui? Beh, all'host. Papà, non ti preoccupare. Ti lascia qua. Eh, che voglio vedere i soldi? Quando bussi, tu sai chiama? Il nipi... ... ... ...